Mal tempo, Acquaroli firma la richiesta per lo stato d'emergenza. A fuoco uno stabilimento pesarese di smaltimento dei rifiuti. Incidente stradale di Alessandro Monetti. In tribunale parla un testimone. Una rivoluzione energetica riapre la piscina olimpionica. E poi lo Sport Italservice esonerato Colini alla vigilia dei play out. SONOVALSINI Ben ritrovati su Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale, in questa prima edizione delle 19.40, poi in replica alle 20.40. Oggi è giovedì 18 maggio, giornata che ha visto tramontare l'allerta maltempo e iniziare a Pesaro un censimento dei danni. Risarcimenti che faranno i conti con una richiesta di stato d'emergenza ufficialmente firmata oggi dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Finita la fase di emergenza, inizia la mappatura dei danni causati dal maltempo che ha colpito Pesaro e l'intera provincia. Per supportare la stima, il Comune ha predisposto un servizio rivolto ai cittadini che da oggi possono compilare un modulo dedicato descrivendo il tipo di danno subito e una stima utile a una prima ricognizione. Il tutto con foto che possono essere associate ad una mail apposita che è stata predisposta. Garage, cantine, appartamenti al piano terra, negozi, fabbriche e quindi davvero la conta dei danni è tanta, per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza. Tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto perché questa volta la solida non ce la facciamo. Per riparare i danni uno snodo decisivo sarà la concessione o meno dello stato d'emergenza che sarà deliberato martedì dal Consiglio dei Ministri. Una richiesta avanzata da Ricci, da Paolini ma anche da Palmirucchielli in qualità di Presidente dell'Unione Pian del Bruscolo al cospetto dei danni ingenti per strade, impianti pubblici, aziende e abitazioni private. Richiesta di stato d'emergenza che questo pomeriggio è stata ufficialmente firmata dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli alla luce dei tanti disagi e danni rilevati. Una richiesta che arriva all'indomani della mozione urgente presentata dal Consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Biancani. Ho presentato questa mozione appunto per chiedere al Presidente Acquaroli di attivarsi immediatamente per richiedere appunto lo stato d'emergenza anche perché i danni sono stati veramente molto ingenti. Ieri pomeriggio ho approfittato per andare a fare alcuni sopralluoghi e devo dire che sono tante le abitazioni che hanno avuto danni, garage ma anche tante le imprese, le attività commerciali. Basta pensare alle concessionarie che ci sono lungo lo statale dalla Opel alla Land Rover, i danni che ci sono avuti lungo il litorale, gli impianti sportivi, quindi parliamo di milioni e milioni di danni ai quali sicuramente non riuscirà a far fronte né la provincia né il comune anche perché sia la provincia che il comune hanno avuto i danni loro e quindi anche loro avranno bisogno di risorse per poter sistemare tutti i danni che hanno avuto. Richiesta di stato d'emergenza che ha come prerequisito quello dell'approvazione per poi essere sostenuta anche da tempistiche adeguate. Ricordo che ancora ad oggi non sono stati definiti i criteri per l'assigenazione dei fondi per il terremoto, l'ultimo terremoto che c'è stato e sono passati mesi e ancora i cittadini non sanno come verranno ripartiti i fondi nonostante è stato riconosciuto lo stato d'emergenza e addirittura per quanto riguarda l'alluvione che ha riguardato gran parte del nostro territorio facciamo riferimento ad esempio a Cantiano anche lì diciamo che nelle tasche degli imprenditori o dei cittadini i soldi ancora non sono arrivati. E in tanti giovani e meno giovani si stanno già rimboncando le maniche per aiutare abitazioni e aziende intente a riparare i danni causati proprio dal maltempo. Una macchina di volontari che ora viene strutturata e indirizzata proprio dal comune di Pesaro. Vediamo. Stiamo ricevendo in questi giorni molte sollecitazioni positive invece in una tragedia, in un momento molto difficile che è quella della disponibilità di tanti giovani e meno giovani che vogliono mettersi a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà a liberare le cantine, gli appartamenti allagati. Quindi troveranno e troverete sul sito del comune un link dove dare la disponibilità per aiutare le famiglie in difficoltà, aiutarle per liberare cantine, per pulire i vani occupati dall'acqua e aiutare le persone più fragili che è la cosa più importante. Chiameremo all'aiuto i maggiorenni in particolare ma la sollecitazione più grossa è stata dal forum giovani. L'emergenza ha dentro di sé anche il lato umano delle persone, oltre la tragedia che vediamo non solo qui nel nostro territorio, in Emilia Romagna specialmente, i giovani diventano protagonisti di un vero atto di solidarietà. Sono stati i primi a contattarci per chiedere come potessero essere d'aiuto, di supporto verso le persone più anziane, per esempio, che hanno le proprie cantine, i propri garage occupati dal fango o ancora dall'acqua. Questo ci fa onore, ci ricorda che le nuove generazioni sono sempre pronte a mettersi a disposizione degli altri, basta riuscire a contattarle, cosa che insieme al Presidente del Consiglio Comunale e anche sulla spinta del forum giovani siamo riusciti a concretizzare. Spero che a questa catena umana, e che l'emergenza non serva ancora a prolungarla, però che questa catena umana possa essere un esempio virtuoso anche per coinvolgere altri cittadini. Ed ora cambiamo argomento. Un incendio ha gravemente danneggiato questa notte il deposito di una ditta di smaltimento di rifiuti elettronici. Si tratta della Sider Rottami Adriatica, situata in via delle Acace, non lontano dal casello autostradale. Sul posto sono intervenuti dieci vigili del fuoco e tre autobotti che hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e provveduto alle operazioni di smassamento dei materiali. Operazioni di messa in sicurezza durate fino a questa mattina. Sono in corso le indagini sulle cause che hanno scatenato il rogo. Sul posto sono stati effettuati anche i rilievi dell'ARPAM in merito alla tossicità delle componenti bruciate. Torna a far parlare di sé il pesarese Alessandro Monetti. Dopo il caso che abbiamo seguito noi di Rossini TV per diverse settimane relativo allo sgombero forzato della sua famiglia dalla casa di Soria, oggi in tribunale è stato invece ascoltato un testimone dell'incidente che da otto anni lo ha costretto in sedia a rotelle a causa di un pirata della strada. Allora vediamo tutto in questo prossimo servizio. Dopo appena un mese dalla consegna delle chiavi dell'appartamento in via Persoria, la famiglia Monetti torna alla cronaca per un importante sviluppo sull'incidente stradale del 25 maggio 2014 che ha poi costretto il giovane Alessandro alla sedia a rotelle. Questa mattina infatti si è svolta l'udienza presso il tribunale di Pesaro dove davanti ai giudici si è presentato un importante testimone di quella maledetta notte in cui l'allora 17enne in sella al suo scooter sembrerebbe essere stato travolto da un pirata della strada. Erano circa le 4 del mattino quando in un tratto di via Gradara, nello stesso istante dello schianto tra il SUV e il motorino, passò un cinquantenne di caserta a Pesaro per lavoro. Quest'oggi all'udienza erano presenti anche il giovane 26enne suo padre Giuseppe, rappresentati dall'avvocato Domenico Musicco, soddisfatto di questo primo step verso una quanto mai riconoscente giustizia per i moneti. L'impressione è positiva, abbiamo avuto un buon riscontro nel senso che il giudice ha sentito con attenzione il testimone e quindi mi sembra che le dichiarazioni del testimone siano state precise, ha spiegato come ha assistito all'incidente e il giudice ha disposto la consulenza medico-legale sulle lesioni di Alessandro. Questo ci lascia ben sperare per il proseguimento del processo perché finalmente si valuteranno i danni gravissimi che ha subito per colpa di questo pirata della strada e potrà ottenere giustizia, quindi siamo molto soddisfatti oggi. Il 6 giugno c'è la prossima udienza e c'è il giuramento del consulente d'ufficio e quindi vediamo se l'udienza è stata stabilita anche l'orario, se volete ve lo dico in tempo reale, il 6 giugno alle ore 10, quindi ci sarà il giuramento del consulente d'ufficio e quindi noi nomineremo i nostri consulenti di parte, quindi siamo contenti soprattutto per il povero Alessandro che meritava questa giornata dopo tanti anni di sofferenza. È una giornata che attendiamo da sempre, da quando è successo il fatto, sensazioni non saprei dirvi, spero buone e speriamo che vada per il meglio perché sarebbe un aiuto molto molto importante per la nostra famiglia e soprattutto ci aiuterebbe un pochino a superare anche tutto quello che abbiamo dovuto passare nell'arco di questi nove anni, quindi speriamo che vada per il meglio e che possiamo uscire tirando un sospiro di sollievo. Un mese di maggio denso di appuntamenti importanti per i moneti, oggi l'udienza a breve la consegna delle chiavi per la loro nuova abitazione a Loreto dopo lo sfratto di un mese fa, per adesso una sistemazione provvisoria a casa di una zia. Con la nuova sistemazione ci siamo adattati, abbiamo avuto ieri l'appuntamento con gli assistenti sociali per dargli un aggiornamento, chiaramente è un appoggio provvisorio come dicevamo anche in precedenza perché è troppo piccolo per noi, il posto e la zona sono molto tranquilli, molto belli, palazzo accessibile e tutto, l'unica pecca dell'appartamento è che è piccolino, altrimenti sarebbe una sistemazione molto bella per noi, quindi dove ci siamo trovati abbastanza bene, insomma, quindi ci siamo adattati bene. Per quella di Loreto non lo sappiamo, dovevamo avere la consegna delle chiavi lunedì il 15, la signora non l'abbiamo sentita e stiamo aspettando delle notizie, adesso anche l'assistente sociale abbiamo aggiornato su questo frangente, chiaramente se dobbiamo aspettare una settimana in più, dove siamo? Siamo tra virgolette in casa perché è un appartamento di mia zia, quindi se dobbiamo starci una settimana in più non c'è problema, speriamo che la signora ci faccia viva e che non dobbiamo ricorrere, insomma, ad andare per vie legali, a prolungarci di nuovo in discorsi più complessi, ecco, che vada tutto per il meglio e più liscio possibile. È stato forse il caso simbolo del caro Bollette a Pesaro, parliamo della piscina del Parco della pace, costretta per tutto l'inverno a rinunciare alla sua piscina olimpionica a causa dei costi non sostenibili. Da sabato non sarà più così, grazie a un importante intervento di efficientamento energetico effettuato sull'impianto. Dal 2020 abbiamo subito il peggio del peggio, prima il Covid, poi l'aumento delle bollette, fino ad arrivare all'inverno scorso dove insieme con il Comune abbiamo deciso di tenere chiusa questa vasca da 50 per l'inverno perché solo lei in 5 mesi invernali costava oltre 700 mila euro di gas. Oltre a pagare tutti i costi dell'energia passata, circa 900 mila euro di mutuo abbiamo dovuto fare per pagarla, con il Comune abbiamo concordato di fare 900 mila euro di investimenti che di fatto ci consentiranno di salvare questo impianto e di non farlo chiudere mai più. Il 20 di maggio riapriamo e riapriamo con un impianto rinnovato da tutti i punti di vista tecnologico negli impianti per permetterci di risparmiare soldi e di far sì che l'utenza possa aggiovarne. Chi ha in gestione le piscine sa quanto ha sofferto nel periodo del Covid, dopodiché c'è stato il carro energia, quindi tutte queste spese e mancati incassi hanno messo a dura prova soprattutto l'impianto datatorio di Pesaro. Ma nonostante ciò il giustore è stato forte a resistere perché la cosa più facile era quella di abbandonare tutto, non dando una risposta importante alle migliaia di persone che utilizzano tutti i giorni questo impianto, quindi sia alle famiglie che portano i propri figli ma anche chi sceglie questa struttura come attività per fare fitness e per fare attività sportiva in palestra che in acqua. Quindi insomma siamo qua per dire che adesso questa struttura potrà risparmiare tanto in termini di energie, bollette, acqua e soprattutto quello che è e sicuramente da settembre questo impianto darà una risposta per la vasca da 50 metri anche per il periodo invernale. Noi abbiamo apportato alcune modifiche prevalentemente per dimezzare il costo dell'energia e abbiamo un cogeneratore che sarebbe una caldaia che scalda l'acqua, che produce energia elettrica, che produce 550.000 kilowatt all'anno. Abbiamo costruito 200 kilowatt di impianto sui tetti fotovoltaico che ci consente di produrre erotti 230.000 kilowatt all'anno, totale noi autoproduciamo 750.000 kilowatt che sono circa il 75% del nostro fabbisogno, noi consumiamo circa un milione di kilowatt elettrici all'anno. Nel frattempo abbiamo sostituito una caldaia a metano che era vecchia con una pompa di calore che toglierà circa la metà del lavoro della parte del metano consentendoci di andare a risparmiare il 50% dei consumi di metano, quindi noi di fatto ci troveremo da quest'anno a spendere metà dei soldi che spendevamo sulle bollette del metano e un quarto di quello che spendevamo nell'energia elettrica. Oltre a questo abbiamo comprato e installato un impianto solare termico con 18 pannelli che ci consentono soprattutto nel periodo invernale di andare a riscaldare un pochino l'acqua e portarla dai 12-14 gradi che di solito è l'acqua dell'acquedotto ai 22-24 gradi che ci consentono di far lavorare di meno la pompa di calore e le caldaie, quindi anche questo sarà un importante risparmio. Poi abbiamo nei motori dei ricircoli dell'acqua, abbiamo messo degli inverter che ci consentono di abbassare la frequenza delle pompe, di abbassare del 50% i consumi e poi abbiamo comprato un sistema di telegestione che anche attraverso dei sensori ci consente di ottimizzare tutti i consumi di tutti i motori di tutto l'impianto. Di fatto abbiamo reso dal punto di vista tecnologico un impianto molto molto efficiente e all'avanguardia consentendoci appunto di migliorare il comfort per gli utenti e di diminuire drasticamente il consumo dell'energia. Si rinforza la lotta agli sprechi alimentari nella città di Pesaro grazie all'azione della Onlus Gulliver che trova nuove risorse preziose e supermercati alleati nel recupero delle eccedenze di cibo. Oggi ci troviamo al Conad Superstore di Via del Novecento, quarto Conad che aderisce a questa rete di sostegno al recupero alimentare, una rete che viene rinforzata anche dalla donazione di un mezzo di trasporto refrigerato proprio per il recupero di questi alimenti. Noi oggi ringraziamo la Fondazione Prosolidare di Roma, la dottoressa Villa e il presidente Durante che da un paio di anni seguono la Gulliver e Pesaro nel recupero alimentare. Quest'oggi inauguriamo questo nuovo furgoncino che ci permetterà ogni mattina di girare il Conad della città e fare un recupero alimentare molto importante. Il Conad in zona Celletta è il quarto punto vendita Conad che aderisce a questa rete della Onlus Gulliver, il secondo appartenente alla società Maxi Conad Montefeltro. Abbiamo deciso di aderire alla nostra società Maxi Conad Montefeltro che su peso opera su questi due negozi che è Via del Novecento e Pesaro, Via Largo Donatore del Sangue, dove ogni mattina abbiamo deciso di aderire alla associazione Gulliver e doniamo l'invenduto che è ancora recuperabile perché poi loro provvederanno poi dopo a distribuirlo a chi ne ha più bisogno. Noi cerchiamo sempre di operare nel territorio, viviamo qui, le nostre famiglie vivono qui, i nostri dipendenti, i nostri collaboratori vivono qui con le loro famiglie, cerchiamo di vivere in sinergia e nella nostra natura e l'abbiamo fatto volentieri anche questa volta. Per i supermercati coinvolti è un lavoro supplettivo di controllo delle date di scadenza, del controllo della validità dei prodotti che rischierebbero di andare sprecati e che invece vengono selezionati e accuratamente preparati per questo trasporto verso le famiglie beneficiarie. I nostri ragazzi ogni mattina selezionano i prodotti che giustamente hanno le caratteristiche necessarie per essere poi donati perché comunque sia devono essere utilizzabili, registrano tutti i quantitativi, questo vale sia per l'ortofrutta che il fresco confezionato, carne confezionata e prodotti di panetteria. Mediamente distribuiamo notevoli quantità giornaliere che siamo ben contenti di dare per riuscire ad aiutare chi ne ha più bisogno. Ricordiamo che le famiglie che intendono partecipare al progetto di recupero alimentare devono presentarsi alla fondazione Onlus Gulliver con requisito minimo quello di una dichiarazione ISEE sotto gli 8.000 euro. Purtroppo ad oggi siamo arrivati a 1.150 persone per quasi 400 nuclei familiari che ogni settimana grazie a ProSolida e i Conad noi riusciamo a fornirgli un pacco alimentare molto abbondante, degno, parliamo di latte, mozzarella, salumi, formaggi e verdure con anche altre cose tipo pasta, latte, biscotti, questo grazie a Banco Alimentare. La povertà alimentare purtroppo è sempre in lenta crescita e noi riusciamo, ripeto, con questi partner a tentare di soddisfare e di aiutare queste famiglie. Ed ora parliamo di scuola. Sono state pubblicate oggi le graduatorie del Comune di Pesaro rispetto ai servizi estivi di asili, nido e scuole dell'infanzia. Nonostante l'aumento importante di domande rispetto al 2022 sono state accolte dai nidi estivi il 93% delle 282 richieste ricevute. I servizi educativi comunali hanno intercettato anche il 75% delle 618 domande per le scuole dell'infanzia. Dei 194 bambini in lista di attesa, 36 avranno anche diritto al contributo per i centri privati. Per l'assessore alla crescita Camilla Murgia si tratta di un'importante risposta alle esigenze delle famiglie per le quali sono stati stanziati 600 mila euro di risorse comunali. E proprio Camilla Murgia e l'assessore alla rapidità Mila della Dora saranno domani le relatrici del primo dei quattro tavoli tematici proposti dal Partito Democratico in merito alle priorità ad affrontare nei prossimi mesi. Alle 17.30 al Centro Culturale Monaldi in Via del Cinema si terrà il laboratorio di confronto dal titolo Una città di servizi, nidi, infanzia e sport. Domani, venerdì 19 maggio, arriva un'altra tappa d'avvicinamento a Pesaro Capitale della Cultura 2024 che ha l'obiettivo di coinvolgere ogni territorio della provincia. Domani l'appuntamento mensile sarà a Carpegna nel cui auditorium comunale si incontreranno tutti i sindaci, operatori culturali e turistici dei comuni del Monte Feltro con i quali condividere le strategie attuative di Pesaro 2024. Nell'ambito della prima edizione italiana della War Graves Week, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Monte Labbate organizza in collaborazione con la Commonwealth War Graves Commission una serata di musica e storia nella suggestiva cornice del cimitero di guerra. La serata a ingresso gratuito sarà accompagnata dal trio Benensamble, dai video di Mirko Pagnoni, dai cenni storici di Roberto Rossi e dalla lettura di poesie di Roberta Delprete. E chiudiamo la nostra edizione parlando di sport. Per chi ci segue nella nostra prima edizione del telegiornale, quella che state vedendo adesso alle 19.40, vi ricordiamo che alla Vitri Frigo Arena è da poco cominciata la gara 3 dei quarti di finale dei play-off fra la VL e Milano con l'Olimpia in vantaggio 2-0 nella serie. Partita da dentro o fuori per la VL è così come saranno senza appello i play-out di calcio a 5 che vedranno sabato impegnata Little Service, spareggi ai quali la squadra pesarese arriverà però senza mister Fulvio Colini che oggi è stato clamorosamente esonerato. E allora vediamo il perché in questo prossimo servizio. Non ci sarà Fulvio Colini sull'aereo che condurrà Little Service Pesaro in Sardegna a giocarsi sabato la gara d'andata dei play-out col Monastir. Il 65enne allenatore romano è stato clamorosamente esonerato dalla società del presidente Lorenzo Pizza alla vigilia degli spareggi da dentro o fuori per il mantenimento della massima serie. A guidare Little Service nei play-out sarà Davide Barnesi, vice di Colini nelle ultime due stagioni al quale è stata affidata la squadra. Attraverso un comunicato ufficiale Little Service fa presente come sia stato reso pubblico a mezzo stampa l'accordo che vedrà lo Special One del Calcio 5 sulla panchina di un'altra società per la prossima stagione destabilizzando in maniera significativa spogliatoio e ambiente dell'Ital Service a pochi giorni da due gare di cruciale importanza. La nuova società in questione è la Fel di Eboli battuta dall'Ital Service nell'ultima finale scudetto, ovvero del terzo tricolore cucito sul petto da Ital Service e Colini assieme. Nel comunicato l'Ital Service scrive come per riportare totale serenità all'interno dello spogliatoio, evitare mossi e voce di mercato condizionanti, nelle due gare di play-out in arrivo l'esonero di Colini è stato inevitabile. Comunicato in cui si legge anche, lo ringraziamo sinceramente ancora una volta per tutte le gioie conquistate assieme. Semplicemente gli diciamo pubblicamente, mister avremmo potuto concludere la nostra storia in modo sereno e piacevole come meritavamo tutti, ma anche stavolta hai voluto fare tutto di testa tua. Amen, un sincero in bocca al lupo per le future esperienze professionali. E siamo davvero arrivati alla fine del nostro telegiornale, carissimi amici adesso andiamo a vedere però cosa c'è su Rossini TV perché questa sera alle 21.20 in prima serata vi mostriamo il resoconto dell'evento di grandissimo successo che c'è stato tra Cattolica e Gabice Mare, il gran fondo degli squali Trek 2023. E subito dopo invece da Gabice, da Cattolica ci spostiamo a Urbino dove vi andremo a raccontare quello che è stato invece un altro evento di successo, Urbino in Acquarello che lo trovate intorno alle 21.40. E poi domani la nostra rassegna stampa, con voi ci sarà in diretta alle 7.20, in diretta come sempre su Canale 80 e anche sulla pagina Facebook il nostro Daniele Sacchi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.